Gli ucraini stanno combattendo coraggiosamente per il loro futuro, ma stanno lottando anche per i nostri valori comuni e l'Unione Europea sarà al loro fianco come ha fatto dal primo giorno della guerra. Così la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha commentato su Twitter la sua terza visita a Kiev nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. Avvenuto alla vigilia del viaggio con la first lady ucraina Olena Zelenska, ospite d'onore all'Europarlamento, von der Leyen ha inoltre chiarito l'intenzione di garantire all'Ucraina l'accesso al mercato unico senza soluzione di continuità.